L'hotel è il Monaco, per i miei è l'infavitale. Oh, è un hotel adesso? Ora che abbiamo anche la piscina, il flusso turistico finirà dritto a casa nostra. Pa, è candeggina per il bucato! Uccide i germi! Che differenza fa? Mi dispiace, ma siete in arretrato con il mutuo. Ci dia solo un paio di mesi. La prego, troveremo i saluti. Qui dice che una roba IP verrà cancellata se non trovano un posto dove fare il concerto. Wow, James Joplin, Jimi Hendrix, Gli Hu, rifiutati dai residenti. Che fregatura! Vorrei parlare con la Woodstock Concerti. Ispirato a una storia vera. Ciao, bello! Tu hai un permesso? Sì! Bella storia! Stai dicendo che volete usare i miei campi? Per questo siamo qui. Ma dopo dovrete ripulire tutto voi. Ma certo! Avremo bisogno di un posto dove stare. Prendiamo il motel per il resto della stagione. Paghiamo in contanti e in anticipo. Tua madre ha pensato di triplicare i soldi. Tre camere in una. A quanto pare avremo qualche ospite in più rispetto a quello che pensavamo. Il 9 ottobre comincia lo sballo. La statale per New York è interamente bloccata dal George Washington Bridge ed è in pratica un immenso parcheggio. La polizia sta pensando a una chiusura straordinaria dell'intera tratta. Che? Sai quegli hippie che cosa combineranno? Questa cosa non si farà! Se viene a piovere diventa tutto un po' elettrico. Non vorremmo friggere troppi spettatori. La nuova commedia del regista premio Oscar, Ang Lee. Cosa dovrei fare? Raduna le truppe. Ho delle truppe. Hai tua madre, no? Quella vale un battaglione. L'incredibile storia. Ti serve una mano. Che tipo di mano? Mio Dio. Del concerto che ha cambiato la storia. Vallo a vedere, Elliot. Vai a vedere com'è il centro dell'universo. Queste colline le amo! È bellissimo. È destino. Proprio lì, in cima alla collina. Motel Woodstock. Gli hai dato i biscotti alla marijuana? Dal 9 ottobre, nulla sarà più come prima.